Buongiorno a tutti, vi parlo dall'Istituto Pavoniano Attigianelli di Via Benigno Crespi 30 a Milano. Siamo all'interno della palestra del Palapavoni, dove dal 20 al 26 di giugno si gioca la 21esima edizione del Torneo Pavoni. Un nome questo che risuota ancora tantissime emozioni in tutti coloro che hanno avuto l'opportunità di giocarlo e di viverlo, ma anche tanta curiosità da parte di questo torneo ho solo sentito parlare. Perché dovete sapere che nel 1957, nel campo di Via Giusti, che ahimè purtroppo oggi non esiste più, si gioca la prima edizione di questo torneo. È il primo torneo estivo di palacanestro a Milano e diventa subito un enorme successo. Diventa un punto di riferimento imperdibile per il momento cestistico milanese e le persone accorrono perché hanno la possibilità di vedere su un normale playground oratoriale i più forti giocatori del tempo. Vedere squadre di Serie A come l'Olimpia, come Varese, come Cantù, giocare a fianco delle Minors. E ad animare questo torneo è Fratel Brambilla dell'Ordine Pavoniano. Siamo qui oggi con padre Gildo Mandolini, buongiorno, dell'Ordine Pavoniano, al quale chiediamo appunto di spiegarci che cos'è quest'Ordine, cosa ha fatto in Pobbenato, una breve storia, che cosa ha fatto in passato e che cosa fa oggi. Sì, siamo una congregazione religiosa, Pavoniani, perché il nome viene dal fondatore, San Lodovico Pavoni, un prete di Brescia che nella prima metà dell'Ottocento ha dedicato la sua vita ai ragazzi e ai giovani, quelli abbandonati, soli, che trovava in giro per le strade. E per loro ha voluto aprire una casa, perché erano senza casa, ha voluto dare l'opportunità di prepararsi alla vita attraverso il lavoro. Il suo impegno era educare attraverso il lavoro. E proprio per questo a loro ha voluto, per continuare questa opera, per darla in mano ad una congregazione religiosa, quindi la motivazione religiosa è quella che sta in profondo, ma fatta di sacerdoti e laici, insieme, che vivono insieme e insieme lavorano, insieme sono educatori. Sacerdoti, perché certamente bisogna curare tanti aspetti di una persona, ma laici che dovevano essere maestri d'officina, dovevano essere gente esperta in un'attività, in un lavoro, proprio per trasmettere attraverso la loro esperienza personale, innanzitutto, a questi ragazzi delle competenze che potessero poi utilizzarle nella loro vita, nel loro futuro. Quindi l'Ordine fonda la prima scuola di arte grafica in Italia, se non sbaglio. Nel 1821 il Pavoni apre a Brescia la prima scuola grafica. E lo stesso fratello Bambilla insegnava tipografia. Nel nostro tempo, lui era tipografo, quindi entra nella congregazione dei Pavoniani per essere tipografo ed educatore come fratello coadiutore. Così era il termine. Ok. E in questa attività, ecco, è importante proprio sottolineare questi due aspetti, no? L'educazione attraverso il lavoro. Il fratello è colui che si preoccupa dei ragazzi in tutta la loro globalità, no? Quindi di farli crescere come persone e nello stesso tempo di dare loro un'opportunità di lavoro. Naturalmente in questo anche il gioco c'entra, perché poter avere non solo uno sfogo, ma anche attraverso poi quelli che sono gli sport di squadra, no? Si cresce nella relazione con gli altri, nell'amicizia, eccetera. E quindi è stato un settore che fratello Bambilla ha preso a cuore. E tra l'altro lui era un grandissimo appassionato di palacanestro e quindi appena poteva, imbracciava il suo motorino, mi dicono, girava il quartiere di zona Paolo Sarpi e andava a cercare ragazzi da appassionare alla palacanestro e portare qui a giocare sul playground. Sì, tra l'altro ecco, in via Paolo Sarpi c'era, i pavoniani lì in quel tempo dopo la guerra avevano un oratorio, non c'era più l'istituto. Era un oratorio però fiorente, un oratorio dove, ecco, soprattutto attraverso il gioco, attraverso il basket, tanti ragazzi della zona che rischiavano di essere ragazzi di strada, ragazzi che non lasciati a loro stessi, potevano trovare un punto d'aggregazione, potevano trovare un ambiente accogliente per loro, fatto a loro misura, educativo. E questo è stato poi fondamentalmente l'attività di fratello Brambilla. Fratello Brambilla era un personaggio carismatico, grandi valori morali, grande umanità. Cosa i ragazzi, secondo lei, da cosa rimanevano incantati, affascinati? Ma io penso da questa capacità di interessarsi a loro. Abbiamo tra le carte che ci ha lasciato una lettera che scrive ai superiori di allora quando chiede di poter essere pavoniano e dice proprio che lui ha sperimentato cosa vuol dire essere abbandonato, non avere nessuno che pensava... Perché lui stesso è stato per un po' ragazzo di strada. Sì, possiamo dire così, no? E allora dice io voglio dare agli altri quello che non ho avuto, voglio poter essere per loro quel punto di riferimento che non aveva ricevuto. Nelle due precedenti edizioni del torneo, 2019-2021, perché per il Covid nel 2020 non è stato possibile farlo, quali, secondo lei, sono stati i momenti più inclusivi che meglio identificano il messaggio di Fratello Brambilla? Nella prima edizione abbiamo avuto una partita di baskin. Baskin, per chi non lo sapesse, è una forma particolare di palacanestro che permette a ragazzi enormo dotati e disabili di giocare insieme, a prescindere anche dal loro sesso, quindi bambini, bambine, ragazzi e ragazze insieme. Ed era la prima volta io che vedevo una cosa di questo genere, però mi ha lasciato molto commosso vedere proprio questi ragazzi che con grande entusiasmo, ognuno cercava di dare a suo modo, ma un contributo perché tutta la squadra potesse crescere. L'anno scorso invece poi abbiamo fatto qui il Tam Tam Basket, un nome che credo che anche a livello nazionale lo si conosca, questa squadra di Castelvolturno che è nata attorno alla figura di un... Di un ex campione d'Italia con Bologna, sì, Massimo Antonelli. Ecco, e sono stati qui. Il basket per loro è stata una promozione, è stato qualcosa che ha permesso loro di vincere un po' quella emarginazione in cui rischiavano di essere... La particolarità è il fatto che questi ragazzi sono, praticamente, quasi tutti italiani di nascita, ma da famiglie africane di vari paesi. Quindi naturalmente, no? Era anche il colore dava il suo... Infatti il nome Tam Tam non è casuale. Era bello questo e vedere anche le attività che sono state fatte insieme. C'erano i ragazzi della Socialosa insieme a questi del Tam Tam hanno visitato Milano, hanno mangiato insieme, hanno giocato insieme, no? Ecco, e tutto questo credo davvero sia stato un bel messaggio di inclusione. E di questo sicuramente il fratello Brambilla sarebbe felicissimo. Certamente. Ringrazio Padre Gido per queste belle parole. Lui ha giustamente citato Socialosa Basket, perché l'Istituto Pavoniano mette a disposizione questa bellissima struttura a tutte le associazioni che abbiano voglia di venire a praticare la palacanestro qui. Tra queste c'è proprio Socialosa Basket. E il presidente di Socialosa Basket sarà protagonista, insieme a Carlo Recalcati, della prossima intervista. Quindi vi invito a continuare a seguirci sul profilo Facebook di Torneo Pavoni. e sul canale YouTube di Socialosa Basket. Grazie, alla prossima.